un prezzo una cosa fatta a posto per il carnevale eh, c'è ancora per consegnare le chiavi credetemi, lo giuro lo giuro allora, lo riferite allora, lo riferite allora, abbiamo un po' di omaggi da darti io ho limitato un po' perché, se no, ce ne erano un po' troppi aspetta abbiamo un attimo il balletto è un minuto, è tutto bagnato, ragazzi un secondo, un attimo tanto abbiamo tempo oggi bravo ditemi non te lo dico io anche e del tuo cappello se avete fatto allora è un pezzettino è un cavo d'acciaio per assicurare meglio le luminarie in piazza quando cadono al mattino presto avanti è uno è uno avanti questo è un giunto di un tubo quando fate i lavori che fate vedere fare i lavori controllate sempre che i giunti siano rifatti non che magari si riapra e si richiude il soccorso visto che dovete anche finirlo grazie grazie a proposito e e poi sempre riguardo ai lavori è un orologio per toccare un po' il tempo visto che ci avevamo messo un po' un pochettino a fare questi lavori qui ci sono degli sporcaccioni ma stanno sporcando il paese manda una foto subito che ce la taglia 200 euro grazie adesso la mandiamo tiriamo su un po' visto che ci sono pochi oggi ti hanno su le casse come parla? come parla? non sa come se non sa come funziona allora a proposito di tirare su le casse visto che sappiamo che ci sono stati un po' di problemi per quello che riguarda l'area PIP noi avevamo un'idea nel senso che se l'affalto fosse andato bene il comitato avrebbe volentieri contribuito in modo sostanzioso ma poiché come tutti sanno l'affalto è stato quel che è stato per ora questo è il nostro contributo vogliamo di usarli bene che sia per questo o magari per rivedere la diga su Sesia che insomma ci daremo a rivedere i Terresini vise è un po' di paviera l'area PIP è un'idea via non sono orzitati diciamo che non ci sanno che credo che fosse l'ultimo è un po' di paviera qui è un po' di paviera ecco 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 ultimo, visto che volevamo nominarti, volevamo nominarti sceriffo per questa campagna contro la sporcazione, ti do anche il megafono se vuoi, cosa facciamo, prima le chiavi, l'uso dei consigli, vista la giornata non facciamo grandi discorsi, però sono molto contento di darti perché è pesante, perché è pesante, è leggerissima, almeno quando facciamo i lavori magari è una botta dal sindic, perché se va bene il carnevale è finito, va bene, va bene, attenzione, allora, visto che adesso siamo diventati regnanti di Gattinara, su Mestel Babaccio, la consolta è Prandrascia, scusate, regnanti di Gattinara per il periodo di carnevale sospendono con effetto immediato e solo per gli eventi organizzati dal comitato la taglia sui lanciatori di coriandoli e affini che non verranno considerati sporcaccioni ma portatori di gioia, allegria e divertimento.